Ed allora è tutto pronto in Cattedrale ad Andria per domani 25 marzo, giorno dell'Annunciazione della Passione di Gesù, il giorno in cui da secoli la Sacra Spina si rivela nel suo prodigio. Tanta è l'attesa per domani. Teledeon seguirà tutti gli eventi in diretta. Il nostro servizio. Tutto pronto per domani 25 marzo, giorno dell'Annunciazione della Passione di Gesù, il giorno in cui da secoli la Sacra Spina, conservata in Cattedrale ad Andria, si rivela nel prodigio. Tanta è l'attesa per domani, ma è necessario ricordare che il prodigio è un segno gratuito della misericordia di Dio che valorizza la fede e non ne sostituisce l'essenza. Ed è per questo che la giornata di domani andrà vissuta nel silenzio e nel raccoglimento. L'invito è da parte di Don Gianni Massaro, delegato dell'amministratore apostolico e presidente della speciale Commissione Sacra Spina. L'invito è a vivere questo atteso evento con emozione e fervore senza cadere nel sensazionalismo o nella curiosità eccessiva. Domattina la reliquia della Sacra Spina sarà esposta nella Cappella di San Riccardo sul sarcofago in legno dorato, dove anticamente erano poste le ossa del Santo Patrono. La chiesa cattedrale sarà aperta alle ore 7, quando inizierà l'osservazione da parte dei canonici e dei componenti della Commissione Scientifica e Pastorale, che saranno tenuti a relazionare ogni ora. Dalle ore 8 alle ore 23 si terranno momenti di preghiera guidati alle ore 9 e la celebrazione della liturgia delle ore. Nel pomeriggio invece, alle ore 17, Sua Eccellenza Monsignor Calabro presiderà la celebrazione della Passione del Signore e alle 19.30 in Piazza Catuma la Via Crucis, che sostituirà la tradizionale processione dei misteri, durante la quale non mancherà il ricordo per le vittime di Bruxelles e della ferocia umana. Per l'intera giornata di domani alcuni sacerdoti saranno disponibili in cattedrale per le confessioni. I fedeli potranno accedere in cattedrale attraverso due diversi ingressi. Dalla porta laterale sinistra entreranno coloro che vorranno transitare dinanzi alla Sacra Spina e sostare per qualche istante. Dalla porta laterale destra, la Porta Santa, entreranno coloro che vorranno fermarsi in cattedrale per la preghiera o la confessione. La cattedrale resterà aperta poi tutta la notte. Teledeon seguirà tutto in diretta con i collegamenti della cattedrale di Andria a partire dalle ore 7. Una telecamera fissa invece sarà posizionata sulla reliquia della Sacra Spina. Sarà allestita presso la curia Vescovile e la sala stampa, accessibile dai giornalisti accreditati. Oltre alle tv locali saranno presenti le telecamere di Rai 2. Alle ore 15 andrà in onda invece su Rai 1 all'interno del programma Sua Immagine un servizio sulla Sacra Spina registrato nei giorni scorsi. Anche TV 2000 seguirà l'evento con i collegamenti in diretta dalle ore 8 alle ore 10 e 30. Forze dell'ordine e volontari di aggregazioni laicali garantiranno il servizio d'ordine. Si annuncia la presenza di gruppi di fedeli provenienti dai paesi limitrofi e lontani. Prevista anche la partecipazione di autorità religiose pubbliche provenienti da fuori diocesi. Un punto vendita del francobollo emesso per l'occasione dalle poste italiane, delle medaglie commemorative e delle mappe della Sacra Spina sarà predisposto presso la sede della confraternita del Santissimo in piazza Catuma. La comunità diocesana si è preparata a vivere la giornata di domani 25 marzo con un anno giubilare della Sacra Spina, finalizzato a rinvigorire la fede e crescere nella carità. Tante sono state infatti le iniziative messe in campo e tutte molto partecipate in un clima di preghiere e di raccoglimento. Prosegue infine la raccolta fondi per la costruzione della cappella del Lecce Omo nella diocesi di Edea in Camerun, gemellata con la diocesi di Andria.